Buongiorno, buongiorno avete scelto? Buongiorno, buongiorno. Fate la pasta? Certo, tutte quelle che sono scritte sul menù. E ce l'avete senza glutine? Ovviamente, abbiamo anche una versione per celiaci. Ok, perfetto. Allora prendo una tagliata di manzo. Ma, mi scuse, la tagliata è tagliata? Naturalmente, facciamo un taglio della carne a listarelle. Ah, listarelle. Usiamo paroloni per farmi sentire ignorante. Complimenti, la ringrazio. Guardi, non prendo più la tagliata, perché tra l'altro non mangio neanche carne. Va bene, e cos'altro desidera? Ma stia calmo, non si agiti. Ma pensa te questo. Ma se non ho fatto nulla? Allora, per me del pane... Del pane? Del pane? Sì, del pane, basta. Perché? C'è qualche problema? Ma no, no, ci mancherebbe altro. E per lei, invece? Acqua. Come, scusi? Acqua. 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 E va bene, quindi abbiamo del pane e dell'acqua. Altro? Ma il pane ce l'avete ai 5 cereali? E adesso è un trucco! Iscriviti al canale, clicca, clicca e non fare la bici a bici a commenta e condividi il link, il link è su Andrea la Greca e iscriviti con la campanella, dai fallo adesso, non far la monella. Boo! Andrea la Greca, iscriviti al canale, commenta e condividi. Insomma, fai un po' quello che vuoi. Acqua. 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 Ah!